Presidente Francini, un comunicato diramato dalla giunta regionale ha provocato allarme tra voi sindaci e amministratori. In cosa consiste? È stato mandato un comunicato dove praticamente la regione Piemonte cerca di creare un po' di zizzagna tra gli amministratori ossolani per sollevare un problema dicendo che il ricorso al TAR che abbiamo fatto per il punto nascite di Domodossola abbia provocato dei ritardi, delle spese in più e molto probabilmente anche causato degli errori. Noi rigettiamo assolutamente tutte queste accuse al mittente perché è la regione Piemonte che ha le idee un po' confuse in merito a questi problemi, credo. E credo che sia una cosa abbastanza sbagliata cercare di riversare le colpe su degli altri quando sanno benissimo tutti che il punto nascite di Domodossola in effetti non è mai stato chiuso dalla regione. È rimasto aperto non solo per il ricorso al TAR ma anche perché l'ospedale di Verbagna, il reparto maternità, ha avuto dei problemi di incendi eccetera e quindi non è funzionante. In tutta la provincia l'unico che c'è è quello di Domodossola e quindi noi continuiamo e pretendiamo che la regione Piemonte tenga conto di questo stato di cose. Inoltre facendo tutti i conteggi, dei chilometri, dei tempi di percorrenza con auto, con mezzi pubblici e tutto quanto, l'ospedale più baricentrico di tutta la provincia del Verbagna Cosiossola è l'ospedale di Domodossola e non sono altri ospedali. Quindi noi abbiamo invitato già questa estate la giunta regionale a tenere conto di queste cose e loro continuano a far finta di niente e non ne tengono conto. Noi siamo davvero arrabbiati e stufi di questa situazione. Non possiamo continuare in questa maniera. Approfitto per ringraziare tutti e 35 sindaci ossolani che nel giro di 48 ore personalmente oppure tramite il vice sindaco, tramite qualcuno dell'amministrazione, ci ha consentito di prendere provvedimenti e fare anche il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza emessa dal Tar del Piemonte. Quindi siamo organizzati e sarebbe auspicabile che la Regione funzionasse come dimostriamo di essere capaci di funzionare noi sindaci ossolani.